Amici di Volonwright, siamo sempre qui dal Polo Pari a Palazzo Barolo a Torino per l'inaugurazione della mostra Dialoghi Dialoghe. Abbiamo visto queste bellissime opere fatte da artisti sia italiani che tedeschi in uno scambio oltre che culturale, anche umano. Abbiamo il piacere di avere ospiti ora tutti gli artisti tedeschi che hanno collaborato a questa fantastica mostra, a cui faremo qualche domanda e chiedo a Sabina del Kunstmuseum di Bonn di presentarceli. Benissimo, allora innanzitutto vi chiederei se siete contenti di essere qui in Italia e qui a Torino. Tania è una città molto bella, soprattutto la sera quando è buio e si vedono le luci sulla collina. E la sinagoga, che oggi è la mole famosa, lui dice che toglie il fiato. Siamo contenti che ti piaccia la città, piace anche noi che ci abitiamo. Che significato ha l'arte nella vostra vita? Tania dice la libertà più grande che può esistere. Daniel dice il suo modo di esprimere i suoi sentimenti e comunicarli agli altri. Nicole dice di tranquillizzarsi, di atterrare e di essere come una volta. Benissimo, poi vi chiedo invece cosa avete fatto, quindi con che materiali avete lavorato e quali opere ci sono qui a Palazzo Barolo. Con qualsi materiali avete lavorato per queste cose qui, che sono state state realizzate? Era con matita e inchiostro, forse fine liner sulla carta. Ok, e come avete vissuto il fatto che comunque altri artisti di un altro paese, di un'altra città abbiano poi lavorato sulle vostre opere e invece il fatto che voi abbiate lavorato sulle opere degli artisti di Torino? E come è stato per voi che poi altri artisti hanno chiesto sui lavori e voi sulle lavori di altri? Come è stato per voi? Bene, interessante. È stata una esperienza speciale. Per Kerstin, anche Nicole dice che è molto particolare perché è diverso. Normalmente si dipinge, si disegna solo il suo disegno. Ha aggiunto che non solo nei disegni incontrarsi, ma anche qua, adesso fisicamente è bellissimo. Benissimo, grazie ragazzi, buon lavoro, complimenti. Grazie. 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 Grazie.